Palla che rimbalza Cannavaro! Reina con un grande intervento! Palla messa dietro per Mozitelli! Mozitelli! Il sassuolo passa in vantaggio! Segna Luca Mozitelli con il suo primo gol in questo campionato! Il grande intervento di Reina su Paolo Cannavaro ad impedire il gol dell'ex ma poi il sinistro di Luca Mozitelli per il 2-1 dei Nero Verti!